Gli oggetti smarriti, i tovaglioli caduti, le parole vaghe, le scuse dei distributori automatici, le mani perdute, la cortesia per gli ospiti, l'invasione delle cavallette, gli occhi altrove, l'emigrazione delle intenzioni, i grazi improvvisati, l'irraggiungibilità sistematica, il narcisismo emotivo, gli asciugamani bagnati, gli allarmi inattesi, l'approssimazione dei sorrisi, la separazione desertica, l'Antartide nudo, le favole deludenti, le aspettative infami, il capitale frustrante, la schiavitù dei tempi, l'ostruzionismo dei chakra, la tirannia dei social, il linguaggio del corpo, la verità dei dettagli, la torre di Dio, i flussi migratori, le rondini insonni. Dove abbiamo nascosto i nostri credo? Quanto abbiamo sgranato i rosari dell'occasione? Isseranno la pelle, per estremo gesto desistere, che fenomeno soprannaturale l'abbraccio all'asta, ragomitolarsi come bandiera senza vento. L'inutile difesa dal mondo e il senso di straniamento dalla natura sono inveri. È più intrusiva la salvezza, il levigato senso politico di un corpo in ogni dove tu possa vedere e sentire la vita. La nascita è il nostro baluardo in braccio a questo universo. Sfreccia lasciando solo un soffio, i battiti dei cuori precipitanti, i soli svelati che ci hanno indicato l'amore. Adesso la rugiada si posa a spegnere le case infuocate. Ritrovati siamo, in secoli e secoli di confini, ora abbandonati in libertà istintive, che ci vede appartenere tutti indistintamente al mondo animale. Dove abbiamo nascosto i nostri credo? Quanto abbiamo sgranato i rosari dell'occasione. Passerà la notte senza ferite, anch'ilosate le gambe del corpo sicuro, gli spazi così stretti, pensandoci feti in questo divano fattosi grembo. Pinocchio non fu qui, in questo ventre pescecane, non qui. Vagabondo di sogno ha migrato per capire il sentirsi umani. Sai, si è fatto uomo meglio di Dio. Contiamo insieme queste sillabe, inesauribile sarà l'accento dei passi in questo nostro cammino. In che città vivi? Ha importanza? Immagina queste nuove stagioni. Non è mai errore di distrazione poter riemergere come uomini.